buonasera a tutti benvenuti a questo webinar insieme a Marco d'Andrea leggo subito il disclaimer mi raccomando prendete sempre nota del disclaimer dell'avvertenza sul rischio in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva il 65% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo training con il CFD con TICMIL Europe LTD valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro allora questa sera come dicevo webinar con Marco d'Andrea trader ma soprattutto consulente commercialista e questa sera parleremo di un aspetto molto importante del training tasse sul training come dichiararle anche vari altri aspetti però prima di entrare nel vivo come sapete c'è una piccola presentazione del broker TICMIL quali sono le caratteristiche principali di TICMIL è un broker globale pluriregolamentato FCA SISEC è registrato presso la CONSOB offre strumenti CFD e da qualche mese abbiamo anche aggiunto i mercati regolamentati con futures e opzioni Giuseppe scusa se ti interrompo buonasera a tutti però non c'è il video condiviso aspetta perché allora zoom grazie figurati scusate se ti interrotto riprendo il disclaimer che lo scusano solo monitor quindi difficile distrecarsi tra i vari tra le varie schermate allora questo è il disclaimer ripartiamo da capo mi raccomando tenete sempre nota del disclaimer dell'avvertenza sul rischio e come dicevo quindi prima di entrare nel vivo e di parlare comunque dell'argomento di questa sera vi espongo un po' le caratteristiche principali di TICMIL quindi parliamo di un broker globale pluriregolamentato FCA SISEC è registrato presso la CONSOB offre strumenti CFD e futures piattaforme attualmente abbiamo la MT4 e la CQG per i futures e anche diamo la possibilità di collegare il nostro data feed attraverso le connessioni API a MultiChart, TrainingView e Sierra Chart qui parliamo però sempre di mercati regolamentati non ci sono costi né sui depositi né tanto meno sui prelievi potete utilizzare diversi metodi di pagamento come Paypal, Skrill e quant'altro non ci sono limitazioni sulle strategie quindi potete utilizzare tutte quelle che ritenete più opportune come scalping arbitraggio chi più ne ha ne metta lo sped up parte da zero con commissioni tra le più basse del mercato qui parliamo di prodotti CFD con diverse asset class disponibili forex indiciazionari commodity e obbligazioni piattaforma parliamo un po' di piattaforme sulle scadenze perché mi chiedete molto spesso quando dura una demo la mt4 è illimitata quindi basta scaricarla una volta e effettuare un login almeno una volta ogni settimana per avere la piattaforma comunque con scadenza illimitata mentre sulla CQG che è la nostra piattaforma proprietaria che offre i futures la scadenza invece di 20 giorni c'è poi appunto con la CQG dicevo accessi ai mercati regolamentati su diverse borse come CME, C-Bot, Nimex eccetera attraverso la piattaforma CQG e connessioni API. Allora io prima di ripassare la condivisione dello schermo al buon Marco parlando sempre di mercati regolamenti di più su visto che comunque le abbiamo lanciati da qualche mese c'è un'offerta su training view che è molto interessante come sapete training view viene utilizzata da moltissimi trader per poter fare analisi però per poi negoziare direttamente le grafici di training view c'è bisogno di collegare la diciamo la piattaforma a un data feed attraverso vari broker. Tra questi broker c'è anche che offre appunto l'accesso ai mercati regolamentati e fino al 31 ottobre questa possibilità è totalmente gratuita quindi non pagherete né training view pro che vi ha l'accesso anche a diversi strumenti molto più professionali come magari alcuni oscillatori su su dei volumi che costa quindi su sui 15 dollari al mese questo costo fino al 31 ottobre viene totalmente assorbito da TIC 1000 e non facciamo pagare nemmeno il data feed e la connessione ai dati che sono intorno a altri 15 dollari perché come sapete i dati comunque costano per poter avere un data feed degno di questo nome e quindi fino al 31 ottobre anche il data feed di primo livello quindi il miglior bid e ask è totalmente gratuito fino al 31 ottobre chi volesse per chi volesse comunque maggiore informazione mi può contattare via email a giuseppe chiocciola TIC 1000 punto com allora io ho terminato la mia presentazione quindi interrompo la condivisione e passo la palla a Marco ciao Marco puoi condividere lo schermo ciao giuseppe grazie per l'invito è sempre un piacere un onore essere tuo ospite ho appena avviato la condivisione ecco a tutto schermo si dovrebbe vedere mi confermi l'audio è pulito che non si sentono rumori di sottofondo e che lo schermo è condiviso assolutamente sì ottimo ottimo allora eccoci qua siamo con una nuova veste grafica da questo punto di vista e scusate che si è collegato anche l'audio ottimo che così se no non rimbomba si sente bene adesso assolutamente sì ottimo ottimo per quanto riguarda diciamo la situazione quindi siamo in una nuova veste grafica abbiamo rifatto da poco il logo e incrementato la struttura ovviamente il titolo è rimasto sempre lo stesso in generale oggi Giuseppe secondo me conviene diciamo concentrarsi soprattutto dare ampio spazio perché ho visto che già ci sono la bellezza di più di 40 persone collegate e fondamentalmente quindi dare più spazio alle domande in generale e dare ovviamente quelli che sono un po' gli aggiornamenti ricordiamo che con Giuseppe abbiamo questo è il terzo webinar sulla fiscalità che facciamo il primo è datato 2017 se non erro quindi ormai Giuseppe il tempo scorre pure per noi esatto esatto per quanto riguarda la situazione della diciamo della scelta del conto trading ovviamente mi riferisco semplicemente al regime dichiarativo perché con Tickmill non offrendo ovviamente il sostituto di imposta che attenzione non è assolutamente una cosa negativa ma in realtà è un'opportunità e soprattutto Giuseppe con ho visto che sono faccio parte anche io insomma dei dei gruppi dove tu Giuseppe fondamentalmente gestisci anche ben o male tutto il popolo di Tickmill dove fondamentalmente eh ho visto che hai tanto a cuore la situazione del money management e in linea generale appunto sulle tecniche di analisi quantitativa e in particolar modo ovviamente il regime dichiarativo permette lo sfruttamento ovviamente di quello che è l'interesse composto ovvero invece premessa ovviamente una tecnica che comunque dei casi preveda un un andamento vincente nel lungo pericolo l'interesse composto ovvero il discorso di non ritirare i guadagni ma di rimetterli al regime all'interno della strategia stessa può apportare fino a un sessanta per cento di ulteriori guadagni all'interno diciamo ovviamente della propria attività di trading ordinaria da questo punto di vista ovviamente si evince che quest'anno quindi prima novità che diciamo o adesso in esclusiva anche per per TICMIL in generale che con attraverso il decreto sostegni lo stato italiano ha deciso che la scadenza del modello unico integrativo sarà al 30 novembre quindi che cosa vuol dire questo che questo che ho scritto qui 18 mesi in realtà diventano 23 mesi di possibilità di godere della liquidità sul conto lorda ovviamente che cosa vuol dire questo che tutti i guadagni che ho facciamo l'esempio che io abbia non so aperto il conto nel 2020 magari a gennaio 2020 le tasse quest'anno quindi del 2020 le dovrò dichiarare a novembre quindi che cosa vuol dire che tutti i guadagni che ovviamente la parte che deve essere destinata alle alle tasse la verserò al 30 novembre quindi ben 23 mesi a partire diciamo da gennaio da quando ho aperto il conto ehm a disposizione che secondo me è un vantaggio non da poco ecco perché appunto non direi che sia assolutamente un problema il fatto che magari eh broker appunto molto seri soprattutto molto buoni come quello di cui Giuseppe nel country manager non offrendo il regime amministrato in realtà offrono un ulteriore vantaggio rispetto al fatto che comunque dei casi il regime amministrato l'unico vantaggio che di fondo dà è quello di offrire ovviamente la il fatto di essere sostituto di imposta e quindi di versare fondamentalmente il 26 per cento per conto del cliente ma ovviamente oltre a questo un ulteriore vantaggio maggiore che abbiamo è che mentre nelle banche italiane classiche dove viene offerto sostituto di imposta i primi guadagni che vengono diciamo realizzati le tasse vengono messe su uno zainetto fiscale a parte e vengono trattenute da parte dell'intermediario quindi se poi l'hanno lo sostituite in perdita fondamentalmente quelle tasse comunque devono essere corrisposte a prescindere cosa che invece nel regime dichiarativo all'interno diciamo del modello unico possono essere compensate le plus e le minus sia di inizio anno che di fine anno questo ad esempio è un vantaggio non da poco eh successivamente quindi andiamo a fare un vero e proprio esempio pratico che è quello che abbiamo fatto più volte diciamo nel anche nel nei webinar precedenti ovvero ponendo caso che io apro un conto eh inizialmente la prima parte dell'anno i primi sette mesi totalizzo diecimila euro di guadagni nella seconda parte dell'anno invece totalizzo duemila euro di perdite se ho il regime amministrato l'intermediario mi trattiene sempre comunque dei casi duemila e seicento euro che sono tari al ventisei per cento sui diecimila io a fine anno cinquemila e quattrocento euro se invece ero con il regime dichiarativo che è quello che offre ovviamente TICMIL io a fine anno ho ben otto mila euro perché le tasse le pago l'anno successivo mi vengono non mi vengono trattenute le pago quest'anno ovviamente con undici mesi di ritardo rispetto fondamentalmente a quella che è la chiusura dell'anno quindi mi ritrovo a dicembre con otto mila euro di lordo e il netto che ovviamente sarà al trenta novembre di cinquemila novecento venti euro quindi nonostante i numeri sono gli stessi mi trovo anche un più dieci per cento sul conto proprio perché comunque dei casi non ho subito la trattenuta fiscale ma vado a pagare direttamente sul netto ovviamente perché bisogna fare la dichiarazione prima nell'offline con Giuseppe mi sono permesso di chiedere di quali sono magari delle domande tipiche che magari lui ha ricevuto il mio generale o comunque quelli che sono le tipicità delle domande che magari gli investitori in TICMIL fanno spesso allora innanzitutto il conto va dichiarato sempre quindi sia se abbiamo piccole cifre quindi che trasferiamo all'estero anche un euro fondamentalmente dobbiamo dichiararlo perché comunque dei casi è un movimento tracciato ovviamente poi se nell'andamento purtroppo si va in perdita all'inizio può capitare come tutte le grandi attività insomma in generale per chi inizia magari non sempre si può avere subito un rapporto in guadagno quindi in linea generale potrebbe succedere che magari il primo anno potrebbe andare male e quindi magari possiamo chiuderlo in leggera perdita questa perdita ha una valenza di cinque anni quindi l'anno in cui si produce più di ulteriori quattro può essere compensata con le future plusvalenze e ovviamente va fatta la dichiarazione sia quando sei in perdita per aggiornare queste queste minusvalenze ma anche quando sei in guadagno perché ovviamente quando sei in guadagno bisognerà versare il capital gain che in Italia è il 26 per cento e l'IVAFE che è il due per mille cioè due euro ogni mille euro sulla giacenza media perché diciamo esce fuori fondamentalmente dal calcolo della dichiarazione dei redditi ovviamente la dichiarazione dei redditi va effettuata quindi per regolarizzare una posizione ovviamente perché i movimenti tracciati all'estero ovviamente sono tutti quanti sotto già la lente del fisco quindi vanno comunque dichiarati e ovviamente laddove chi ha una posizione già chiara e non la vuole dichiarare per sua entità va in multa e rischia potrebbe rischiare anche un contenzioso menale quindi bisogna stare molto attenti in generale perché un conto è una svista e un conto è marciare diciamo sulla sul fatto di non voler dichiarare apposta oltre alle domande che fondamentalmente Giuseppe magari ha raccolto che ovviamente se ce ne sono in diretta sarò ben lieto di rispondervi in linea generale vi dico che la dichiarazione dei redditi il solitamente lo si fa a giugno ogni tanto qualcuno mi chiama mi dice Marco sai ho letto che il 30 giugno scade la dichiarazione questo in tempi normali ma in realtà da tre anni tre anni fa con la pace fiscale due anni fa con il discorso della pandemia l'anno scorso ovviamente con il covid e quest'anno con il discorso del decreto sostegni e decreto sostegni bis che è uscito da poco che abbiamo anche commentato nelle varie enti tv dove sono stato ospite e sono stati spostati termini quindi la dichiarazione dei redditi scade al trenta settembre la dichiarazione integrativa scade al trenta novembre ovviamente vi dimostro poi fondamentalmente che cos'è il modello unico integrativo per quanto riguarda ovviamente il trovare di una difficoltà di un consulente preparato o che comunque dei casi la dichiarazione dei redditi ovviamente è un po' più complicata da gestire questo ovviamente è una lancia che diciamo tiro a favore dei colleghi ovviamente persone specializzate in questo ambito ne trovate poche perché noi investitori siamo una nicchia Giuseppe io guarda tempo fa avevo fatto una statistica secondo me in Italia non superiamo i cinquecentomila utenti unici come investitori quindi giustamente un consulente non si va a specializzare su una nicchia così piccola quando in realtà magari ci sono svariati milioni di partite IVA che comunque dei casi possono portare dei clienti maggiori quindi motivo per cui abbiamo difficoltà nel trovare consulenti specializzati non perché insomma qualcuno è un genio e gli altri sono diciamo poco preparati ma in realtà è per una scelta di nicchia ovviamente qual è la situazione che lega il trading con i moni management e il fisco ovviamente è legato tutto quanto alla gestione del denaro quello che comunque spesso Giuseppe vedo che porta sempre comunque dei casi la sottolineare nei gruppi telegram o comunque dei casi dove ci sono tutti gli investitori di Ticmill che ovviamente laddove c'è uno una gestione oculata del money management ci può ci sono alte probabilità di successo ovviamente all'interno del conto trading laddove ovviamente la gestione del money management assente ovviamente il rischio di eh estinzione del conto e quindi nel senso che vengono bruciati i fondi è molto più elevata a maggior ragione perché spesso e volentieri i clienti chiedono sempre comunque una leva più elevata quando in realtà sarebbe opportuno invece sfruttare una leva più bassa al fine di mantenere fondamentalmente più eh bassi fondamentalmente diciamo il livello di rischio in generale ovviamente sul sapevi che eh vi riporto fondamentalmente brevemente alla luce quelli che sono i vantaggi il fatto di poter compensare tra loro plusvalenza e minusvalenza e cosa che nel regime amministrato non è possibile fare un conto amministrato e amministrato quindi si è amministrata solo le plusvalenze e minusvalenze non possono essere compensate né all'interno del conto tra momenti diversi e nemmeno con altri conti quindi possono essere compensati sul modello unico soltanto quei diciamo quelle plusvalenze e minusvalenze che sono liberalizzate quindi fondamentalmente che possono essere gestite nel regime amministrato cioè nel regime dichiarativo perdonate in più una cosa un fondamentalmente un consiglio che mi permetto di dare è fondamentalmente per chi già religio modello sette e trenta e da una statistica dei nostri clienti fondamentalmente in tanti siete che siete lavoratori dipendenti e anche investitori vi consiglio sempre a tutti di fare il modello sette e trenta di farlo lì dove siete residenti eh ovviamente mentre l'attività di trading e l'attività diciamo di consulenza fiscale relativa al trading è un'attività un po' più riservata ma allo stesso tempo più complicata per cui è opportuno secondo me rivolgersi a un consulente preparato l'attività di sette e trenta eh sui reddi di IRPEF è un'attività più comune quindi eh c'è più facilità di trovare comunque dei casi dei consulenti preparati e vi sempre esorto a ad affidarvi a quelli a cui vi siete sempre affidati e magari se eh vi fa piacere insomma eh diventare clienti dello studio in virtù anche della convenzione eh che da più anni abbiamo mandato avanti con Giuseppe in generale per questo servizio fiscale eh oltre ad avere ovviamente la scontistica dedicata secondo me è opportuno che noi ci occupiamo semplicemente soltanto del della teia di trading perché questo tutela la privacy del cliente che così non sappiamo noi tutti i redditi del cliente e al contempo fondamentalmente eh va anche a semplificare il lavoro perché ovviamente fare un sette trenta magari sul cazzo vicino casa è più comodo rispetto che magari farlo appunto con noi a distanza mentre gestire noi la parte della fiscalità del trading magari inviandoci gli statement che con TICMIL nel tempo ci siamo già allineati anche con la documentazione con l'allineamento normativo eccetera eccetera ci viene molto più facile insomma è veloce riuscire a a evadere anche e diciamo tutti gli incarichi che fondamentalmente arrivano ovviamente vi dico che il per cento dei casi il regime dichiarativo anche qualora il broker dovesse offrire quello amministrato è sempre conveniente aderire a quello dichiarativo ovviamente non bisogna essere pigri nel fatto di cercare un consulente o magari eh timidi nel eh richiedere a noi una consulenza che a maggior ragione per i clienti TICMIL c'è una convenzione che dopo magari con Giuseppe vi mostriamo e allo stesso tempo quindi rende tutto più facile e ovviamente meno costoso perché non pensate che chissà quanto possa costare insomma una parcella per i clienti TICMIL noi applichiamo più del cinquanta per cento dello sconto sul diciamo sul prezzo di listino dello studio proprio perché lavorando con una quantità abbastanza importante di clienti specialmente che il broker comunque dei casi tende ad inviarci riusciamo a applicare anche ovviamente una scontistica questo perché ovviamente vogliamo offrire un servizio che sia di supporto all'investitore e che non sia qui diciamo una triga di speculazione come fanno molti altri studi che applicano prezzi molto più elevati quando magari ovviamente eh ci sono magari più perdite da dichiarare che guadagni da questo punto di vista la statistica che in trasparenza Giuseppe vi ha detto che è un sessantacinque per cento buono dei clienti può avere comunque posizioni in sofferenza è comunque una statistica importante e questo per noi comunque dei casi ci fa stare attenti nel dire noi facciamo un servizio di supporto e non un servizio speculativo detto questo io Giuseppe io ti ripasserei un po' la parola qui ci sono le mie i miei contatti che mi sono permesso di ehm condividere da questo punto di vista Giuseppe proprio in virtù del fatto che comunque eh magari mh è meglio che diciamo che i clienti ti disturbino più più che altro insomma per quello che sono attività ehm circoscritte diciamo al broker fondamentalmente quindi attività riguardanti il funzionamento della piattaforma piuttosto degli strumenti e delle novità che magari TIC mi le può offrire rispetto appunto ad attività fiscali che comunque nei casi ci fa piacere comunque dei casi sopperire da questo punto di vista. Sì esatto Marco anche perché noi comunque non siamo autorizzati a fornire alcun supporto su a livello fiscale anche perché appunto abbiamo eh diverse e diversi uffici a Londra Cipro e in altre parti del mondo e quindi la la fiscalità cambia da paese a paese quindi vi eh esortiamo poi a contattare direttamente i professionisti come Marco all'email che eh lui ha indicato. Allora visto che questo è sempre un argomento un po' diciamo pesantuccio tra virgolette perché comunque non parliamo di training e quindi eh ovviamente un'ora farla sulla fiscalità può risultare a quando pesante io vi esorto a fare delle domande in chat se ne avete in modo tale da poter eh interagire e quindi rendere il tutto un po' più attivo. Allora Marco io comunque qualche domanda che ti avevo fatto anche eh sul ehm diciamo prima del del webinar eh riguardava sul discorso di dichiarare eh a seconda del paese in cui apro il conto. Ad esempio ci sono sostanziali differenze tra aprire un conto con eh Seychelle per dirti o su Londra o su Cipro cambia l'importo delle tasse da pagare o siamo sulle stesse sugli stessi importi? Allora le tasse si pagano in relazione alla residenza del contribuente quindi la tassazione se il contribuente è residente in Italia paga la tassazione italiana questo a prescindere dove ovviamente il conto trading è obbligato quindi non non fa solamente differenza se si apre ad esempio la posizione su Seychelle piuttosto che su Cipro piuttosto che su Londra quindi questo è indifferente assolutamente così come sono indifferente ovviamente anche gli importi. In linea generale invece mi permetto di dirti Giuseppe per quanto riguarda la chat ci sono delle domande in diretta quindi se le vogliamo leggere magari eh sì Adriano ti chiede posso fare il mio set e trenta con il padronato poi passo i dati del training a voi li elaborate e voi mandate i quadri necessari nel regime dichiarativo eh aspettate che ho perso la domanda trasferire a me l'F ventiquattro per pagare il modello unico integrativo lo mandate voi. Eh esattamente proprio quello che diciamo il il nostro incarico professionale nel momento in cui ci scrivete e ci incaricate è proprio questo all'interno di questo prezzo che comunque dei casi eh abbiamo mostrato prima fondamentalmente eh è compresa l'elaborazione dati la consulenza sia telefonica che su zoom o su qualsiasi mezzo insomma di eh corrispondenza vogliamo utilizzare la redazione del modello unico la trasmissione all'agenzia dell'agenzia delle entrate e l'elaborazione dati del modello F ventiquattro ovviamente il sette e trenta come ho detto anche prima è opportuno che ognuno non modifichi troppo quelle che sono le abitudini ovviamente da dove c'è difficoltà insomma nel trovare competenza anche nel sette e trenta ma dubito insomma ce ne sono tanti di sportelli attivi se vogliate rivolgervi allo studio siete tutti benvenuti però ovviamente eh penso che sul padronato il caffè vicino casa è sicuramente lo la soluzione più più ideale da questo punto di vista quindi assolutamente Adriano è come dici tu quindi se vuoi affidarti a noi solo per il modello unico integrativo sappi che la scadenza dell'invio telematico è al trenta novembre quindi c'è tutto il tempo e ovviamente mandando una mail diciamo si può eh ovviamente aderire a questa che è questa promozione poi Max chiede questa era un po' in linea con la domanda che ti avevo fatto già io non so se vuoi aggiungere qualcos'altro ciao in caso di broker alle Bahamas ci sono grandi tematiche fiscali da tenere a mente? No assolutamente io penso che tutti queste persone che appunto Vincenzo compreso magari o Max insomma che ci fanno queste domande in generale si facciano un po' spaventare dal fatto eh delle dichiarazioni dei vari paesi white list black list l'antiriciclaggio quello è un' attività che svolgono gli intermediari bancari quindi il cliente il contribuente l'investitore è esentato da questo genere di ragionamenti quindi ovviamente indifferentemente da come è aperto il conto eh comunque va dichiarato perché comunque nei casi c'è un tracciato diciamo bancario di un bonifico comunque mandato all'estero e basta poi indifferentemente da dove è il paese o meno a noi cambia poco perché poi sul quadro di riferimento lo scriviamo che comunque eh si fa riferimento a Bahamas piuttosto che Seychelles piuttosto che Cipro. Ok poi Vincenzo ti chiede per cortesia vorrei sapere se da Andrea vorrei sapere da Andrea da Andrea se a livello fiscale le spese relative alle commissioni sono detraibili nel modello unico? Assolutamente sì le commissioni così come lo spread o comunque dei casi ehm quelle che possono essere magari anche gli swap che sul lungo periodo magari avendo delle operazioni per chi fa trading multiday eh magari subisce sono tutte spese che sono in detrazione ovviamente del discorso del calcolo della plus valenza o della minus valenza ovviamente per il resto si applica il LIFO e quindi sul calcolo che la base imponibile del del IVAF è differente quindi sono due calcoli completamente differenti sappiate che noi abbiamo un software nostro certificato dall'agenzia delle entrate io stesso sono un intermediario dell'agenzia delle entrate e quindi tenete presente che viene tutto certificato sigillato e lo trovate poi ovviamente sul cassetto fiscale. Ok eh sono stanno arrivando tantissime domande quindi io te le leggo eh in addirittura d'arrivo così vediamo eh di rispondere un po' a tutte eh a tutte. Michele ti chiede se sia partita IVA di venditore porta a porta e non si fa dichiarazione perché è tutta tassato la fonte vale tutto ciò detto? Sì assolutamente sì Michele allora per chi ovviamente fa attività di vendita già tassata alla fonte quindi viene applicata l'agenzia d'acconto quello è un tipo di reddito e viene già tassato in quel modo il trading è un'altra tassazione separata che non può essere compensata con l'attività di vendita fondamentalmente e quindi in linea generale va fatta comunque due dichiarazioni una per una parte e una per l'altra parte quindi eh ovviamente non non si ha se lo scopo della domanda Michele era quella di dire non devo fare la dichiarazione o la risposta è no la dichiarazione va fatta e va dichiarata l'attività di trading o perché ovviamente se l'altra attività è già dichiarata è già attassata alla fonte non c'è bisogno di dichiararla però quella del trading ovviamente va fatta ed eventuali plus valori e minus valori ovviamente non possono essere compensati tra loro. Poi una una domanda che collegandomi al discorso di partita IVA Marco che mi viene spesso fatta è se un trader con partita IVA si può scaricare qualcosa dai costi eh relativi costi fissi del training come piattaforme software eh guarda quella è una domanda interessante perché ovviamente eh tutti quanti dicono in linea generale dicono vabbè noi trader non abbiamo diritto a detrazioni purtroppo no con le commissioni a parte le commissioni e lo spread e gli swap che dicevamo prima non abbiamo altre detrazioni ovviamente se parallelamente abbiamo una partita IVA aperta che il nostro codice Ateco ci rende ovviamente eh collegato alla nostra attività quindi seguendo quello che viene chiamato il principio contabile di inerenza il fatto che connessione internet piattaforma e via discorrendo sono definite diciamo congrue e coerenti possono essere detratte fondamentalmente per quanto riguarda diciamo la il fatto di scaricarli però sulla partita IVA non ovviamente sull'attività di trading ok eh Adriano poi concludeva il suo commento sul padronato che non sa neppure del training questo un po' si collega a quello che dicevi tu all'inizio su diciamo noi siamo una nicchia quindi molti professionisti non conoscono assolutamente eh il discorso training poi Salvatore ti chiede nel quadro il quadro RV va compilato solo se supero la soglia di diecimila euro da e per l'estero ah io intanto lo saluto Salvatore che è tanto che non ci vediamo intanto mi fa piacere che ha partecipato a questo webinar che comunque dei casi è un trader abbastanza attivo soprattutto nel tuo gruppo se non sbaglio e guarda Salvatore per quanto riguarda invece il discorso della soglia di diecimila ti stai confondendo purtroppo Salvatore perché la soglia di diecimila è la soglia dell'antiriciclaggio che quello torna a ripetere non è il nostro compito cioè da noi investitori trader a occuparci di questi aspetti ma lì ci pensa la banca quindi se tu hai spostato su Ticmil anche solo cento euro vanno dichiarati la soglia dei diecimila mh è una soglia di antiriciclaggio torna a ripetere si paga sia li vafe che sono venti euro e ovviamente se ci sono stati dei guadagni si paga il ventisei per cento sui guadagni di quei prodotti da questi diecimila euro ok poi Vincenzo ti chiede per quanto riguarda gli swap a debitati dal broker in caso negativo e accreditati dal broker in caso positivo vanno considerati in modo particolare nel modello unico? Allora guarda eh Vincenzo su questo genere di trattazione bene o male non andiamo troppo nello specifico però ovviamente ti dico che gli swap negativi sono detraibili i swap positivi ovviamente non sono detraibili anzi si paga ovviamente la tassazione sopra il capital gain quello sicuramente te lo te lo posso sicuramente dire con certezza. Ok poi Max ti ringrazia per la risposta che hai dato sul discorso Bahamas e offshore in particolare perché era molto preoccupato per la questione blacklist eh poi c'è eh allora un'altra domanda di Fabio eh buonasera quanto detto viene applicato anche a conti in dollari americani grazie. Sì assolutamente sì il fatto di la della valuta è semplicemente una scelta io tempo fa insomma sono anche insegnante in una scuola di formazione mi hanno pagato in dollari e ovviamente eh converto poi la valuta da quel punto di vista. Tenete presente che se non erro su Ticmill Giuseppe si può versare in varie valute. Sì dollari sterline eh franchi. Si fa semplicemente la conversione ovviamente nel caso in cui delle tasse eh si attualizza il cambio al trentuno dicembre nel caso in cui invece dell'apertura al giorno di apertura andiamo a guardarci il cambio a quanto a quanto stava e attualizziamo il cambio cioè nulla di più semplice. Perfetto poi eh sempre Salvatore eh ti chiede il reddito da training si cumula con altri redditi o viene trattato separatamente? È a trattazione separata quindi è una tassazione separata quello che fondamentalmente spesso in Italia sentiamo parlare di cumulo fiscale in realtà quello riguarda solo i redditi IRPEF che tra loro si compensano in linea generale è tipico in Italia fare più lavori in generale però se sono a trattazione IRPEF si compensano quelli a trattazione separata come il trading sono appunto a tassazione separata e quindi non vengono cumulati. Questo è anche un vantaggio perché ad esempio per chi magari eh ha già magari redditi normali per cui già parla paga purtroppo perché siamo in Italia una tassazione piuttosto aspra eh il fatto di pagare o avere ulteriori redditi da trading e questi non si cumulano quindi fondamentalmente Giuseppe spesso mi mi contatto mi dicono ah sai prendo una pensione di invadilità non vorrei che magari me la tolgono assolutamente non fa cumulo quindi la pensione di valità è una cosa l'attività di investitore è tutta altra e ripeto è a tassazione separata. Ottimo allora poi Mario ti chiede eh cosa cambia nella fiscalità se chiudo tutte le posizioni aperte e ritiro il denaro prima del trentuno dicembre senza chiudere il conto del broker e poi a gennaio del nuovo anno rimetto il denaro sul conto. Allora Mario io questo sinceramente lo trovo un po' folle da questo punto di vista perché ti dico due due cose fondamentalmente la prima che la tassazione sul conto trading la si applica a prescindere se si prelevano i soldi quindi questa l'agenzia delle entrate con un interpello fatto da un nostro collega investitore ha chiesto questa cosa cioè le tasse si pagano quando prelevo o quando realizzo la plusvalenza ovviamente l'agenzia si è espressa chiaramente e quando si realizza la plusvalenza quindi il fatto di prelevare o meno è una nostra diciamo azione arbitraria quindi possiamo decidere o meno di prelevare ma se abbiamo guadagnato comunque le tasse si pagano a prescindere poi per quanto riguarda invece il discorso di chiudere le posizioni vi dico che al trentuno dicembre non vengono calcolate nella base imponibile le operazioni aperte infatti se ci fate caso se avete delle operazioni aperte a cavallo di capodanno insomma in generale quindi che magari le avete aperte il trenta al trentuno dicembre e poi le volete chiudere il due o tre gennaio lo potete fare tranquillamente quelle posizioni vengono il metodo LIFO o calcola le posizioni chiuse quindi fondamentalmente non considerare le posizioni aperte su questo vi do ad esempio un'altra dritta da questo punto di vista se ad esempio avete delle plusvalenze maturate ma volete aprire delle posizioni per non pagare queste plusvalenze quindi facciamo finta che noi abbiamo guadagnato diecimila euro su questi diecimila euro pagheremo ovviamente il capital gain di duemila e seicento euro ma se in quel momento riduciamo la liquidità perché non ritiriamo i soldi ma apriamo operazioni tali che il conteggio a fine anno è sotto i diecimila euro in quel caso non paghiamo la tassazione del capital gain ovviamente la rimandiamo all'anno successivo ovviamente perché nel momento in cui poi si chiudono quelle operazioni comunque col metodo LIFO vengono comunque dei casi conteggiati ok poi ti ringrazio Vincenzo anche Salvatore Paolo ti chiede sempre sul tema swap non so se sembra che tu l'abbia già detto che si compensano positivi e negativi o solo i negativi allora hai detto bene Giuseppe gli swap tra quelli positivi e quelli negativi si compensano ma su quelli positivi quindi che ci portano un guadagno ci si paga ovviamente il capital gain perché vanno a fare cumulo sul profit e loss finale ok perfetto poi Fabio chiede se è obbligatorio dichiarare eventuali conti anche se non si è ancora fatto nessun versamento allora in quel caso lì arbitrario perché il conto se viene aperto ma è a zero fondamentalmente secondo me se uno non lo dichiara non succede nulla è pacifico ovviamente che nel momento in cui si apre il conto e si versano i soldi nel momento in cui c'è il bonifico tracciato sicuramente c'è l'obbligo è facoltativo credo nel momento in cui il conto viene aperto però io penso che ad oggi non so se TIC mi offre questa possibilità Giuseppe io immagino che comunque un minimo di deposito bisogna farlo magari pure simbolico di un euro ma comunque credo che non è non è obbligatorio diciamo che comunque però se non si fa alcuna attività di training dopo 90 giorni il conto viene archiviato quindi diciamo l'area clienti rimane comunque sempre attiva però il conto training dopo appunto 90 giorni risulta dormiente. Ok allora abbiamo esaurito per adesso lo slot delle tantissime domande che ci sono arrivate ce n'era una forse l'ho persa sul discorso se si può compensare il discorso minisvalenze tra i due regimi quindi se si è aperto ad esempio con il regime amministrato un anno e poi il successivo si apre con il dichiarativo se si possono compensare eventuali minisvalenze. Questo l'abbiamo detto anche prima Giuseppe i regimi amministrati non possono essere toccati o meglio lo si possono toccare solo nella misura in cui ovviamente o quel conto viene chiuso o viene passato dal regime amministrato al regime dichiarativo però ovviamente nel momento in cui fate la comunicazione non vale per quell'anno ma varrà per l'anno successivo e leggo anche Giuseppe che Salvatore mi dice un'ultima domanda se ho mai visto accertamenti dell'agenzia delle entrate guarda purtroppo ne abbiamo visti non per non per nostra colpa ma perché ovviamente i clienti che volevano rivolgersi a noi ci sono rivolti a noi perché a loro volta avevano dimenticato di dichiarare il conto trading e si sono ritrovati un accertamento e ne abbiamo risolti più di qualcuno uno tra l'altro l'ho chiuso poco fa comunicando poi gli F ventiquattro da da versare. Marco si possono comunicare eventuali multe per mancate dichiarazioni sai con gli importi quali sono se non si dichiara allora si guarda Giuseppe fondamentalmente ci lì in questo caso possiamo applicare gli istituti deflattivi del contenzioso tributario quindi nel momento in cui non si superano i tre anni non si va in omessa dichiarazione quindi c'è la possibilità di pagare la sanzione ridotta del trenta per cento se si superano i tre anni invece quindi tra i tre i sette anni che il momento che diciamo il momento della diciamo dell'estinzione di questo di questo contenzioso solitamente l'agenzia prima dei sette anni comunque almeno l'avviso bonario lo comunica in quel caso se si va nell'omessa dichiarazione sono duecentocinquanta euro di multa fissa più gli ulteriori interessi di mora e gli interessi legali ok eh non ci sono termini di prescrizione sì la prescrizione sono sette anni fondamentalmente sono cinque anni ordinari più ulteriori due che l'agenzia delle entrate può prendersi al fine insomma di andare ad accertare ovviamente eh tasse non pagate o comunque nei casi conti non dichiarati ok perfetto quindi in questo caso parliamo di conti dopo il duemila e quattordici giusto? Eh esattamente ok perfetto ok allora eh io non vedo altre domande Marco se è stata una macchina da guerra è risposta in maniera puntuale a tutte le domande che ci hanno fatto eh non so se volevi mostrare il diciamo la convenzione che abbiamo per i clienti di Ticmini intanto segnatevi l'email di Marco eh che è molto importante anche il suo numero di telefono vedete che c'è anche WhatsApp e Telegram in modo tale da poterlo contattare direttamente eh ci vede Giuseppe dovrebbe essere questa qua perfetto allora la convenzione è questa quella che vedete qui sulla destra dove praticamente eh invece di duecento euro sono novantasette euro eh ovviamente sappiate che da quest'anno il cassetto fiscale per le trasmissioni telematiche quindi anche per i sette e trenta è stato aperto ufficialmente il dieci maggio ma è la trasmissione telematica era possibile fare dal diciannove la scadenza è al trenta settembre per il modello unico ordinario per il modello unico integrativo al trenta novembre però sono vi anticipo già adesso che probabilmente potrebbero esserci ulteriori proroghe le mail sono queste qua info chiocciola mc studio associato punto com il fiscale chiocciola mc studio associato punto com su Facebook e Skype mi trovate con mio nome e cognome questo è il numero aziendale dove potete trovare WhatsApp business e Telegram dove potete scrivere e ovviamente qualora vogliate avere una conversazione più informale potete chiamarmi tranquillamente dicendomi appunto che siete dei clienti TICMIL e che avete appunto bisogno di supporto la consulenza è sempre gratuita e ovviamente all'interno poi del prezzo comunque dei casi eventualmente eh viene pattuito nella nella dichiarazione ovviamente la del novantasette euro è complessiva quindi se nel caso abbiate più conti ovviamente con TICMIL in generale non si paga novantasette euro a conto ma è novantasette euro complessivo ovviamente e per ovviamente poi questi sono i contatti insomma fate riferimento a questi oppure comunque a Giuseppe stesso se magari comunque nei casi abbiate diciamo un canale diretto con con Giuseppe anche perché insomma è anche giusto eh fare riferimento soprattutto a lui per queste cose un po' magari delicate eh io dico sempre che preferisco sempre avere comunque un contatto diretto appunto la segnalazione in modo tale che comunque riusciamo anche a capirci meglio e soprattutto a eh sopperire subito magari perché magari molti di voi mi contattano sono un po' spaisati preoccupati quando in realtà magari appunto prima lo vedevamo persone preoccupate per white list black list ma in generale invece eh non non c'è nulla di grave insomma non bisogna avere paura insomma di aprire su un conto magari black list perché fondamentalmente non succede assolutamente nulla non non veniamo trattati da dai vasori fiscali assolutamente quindi state sereni che magari le preoccupazioni sono solo date appunto da una non conoscenza e non dal fatto appunto che succeda chissà quale cosa negativa. Ok perfetto eh Marco poi c'era purtroppo un'email che mi è una una domanda che mi è sfuggita eh su Facebook però magari Mauro ti invito a contattare direttamente Marco eh perché Marco ti chiedono un po' delle cose particolari sul vostro studio quindi eh meglio chiederlo in privato in questo caso e quindi ti invito a a inviare un'email all'email che sta mostrando adesso Marco anche perché noi purtroppo siamo corti di di tempo perché erano sui tre quarti d'ora e quindi eh il webinar diciamo che si è concluso e io credo che abbiamo offerto un'ottima panoramica a trecentosessanta gradi di quello che è un po' sono tutti gli aspetti delle tasse sul training e quindi poi c'è la registrazione che sarà anche ehm comunque eh già disponibile da domani sui nostri canali YouTube e quindi qualora vi fosse sfuggito qualche particolare potete andarla a rivedere senza eh problemi. Allora Marco io ti ringrazio, grazie per la tua disponibilità e professionalità e eh con TICMIL invece vi do appuntamento ai prossimi webinar e seguite il calendario nel nostro sito web. Grazie a tutti. Grazie Marco. Grazie a te Giuseppe, è sempre un piacere, un onore essere tuo ospite, mi fa molto piacere che è stato apprezzato questo servizio, onorati di rinnovare nuovamente questo rapporto di collaborazioni tra le nostre strutture. Perfetto. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti